Una classe dell'Istituto Fantoni di Clusone, la terza B liceo scientifico, è reduce da un'esperienza di tre giorni in montagna. Ad accompagnarli l'insegnante di educazione fisica Carlo Filisetti. Come è nata l'idea di questa esperienza, meglio di questo progetto? Sì, questa esperienza è nata appunto già in prima superiore nella mia testa, nel senso che ho iniziato a portare questi ragazzi un giorno per fare un'esperienza anche di socializzazione e di accoglienza all'inizio dell'anno scolastico, dalla prima superiore. E poi, vista anche la loro risposta e l'entusiasmo che hanno dimostrato, abbiamo provato l'anno scorso a fare due giorni partendo da scuola e sempre sulle nostre montagne, coinvolgendo moltissimi soggetti esterni che ci hanno dato un grandissimo contributo e abbiamo cercato di fare una scuola sul territorio, diciamo. Quest'anno ci siamo spinti un po' più all'interno delle nostre robbie e abbiamo fatto appunto tre giorni. Tre giorni, secondo il mio parere, fantastici, nel senso che tutto è andato bene, abbiamo avuto la fortuna del bel tempo e ci siamo potuti entrare nella Val Sanguigno in particolare, siamo partiti dalla Novazza, il primo giorno, e siamo saliti appunto da Val Sanguigno che è uno dei posti più belli delle loro obbie. Abbiamo fatto il passo Zulino e siamo arrivati in Val Canale, ospiti di un grande anfitrione che è il signor Gianni Falchini, che oltre ad ospitarci nel suo splendido rocolo ci ha fatto anche una lezione sull'architettura di montagna, visto che lui è appunto un architetto e un appassionato di questi aspetti della montagna stessa. Abbiamo coinvolto colleghi, parlo della professoressa Stella Giovanna, e in preparazione anche della professoressa Silvia Marinoni, che è l'insegnante di scienze e ha preparato da punto di vista teorico i ragazzi a questa esperienza. Inoltre ci siamo affidati all'apporto del CAI di Clusone, che in tutte e tre le giornate ci ha seguito con persone diverse che devo effettivamente ringraziare. Ogni persona aveva una propria ricchezza, un'esperienza in montagna che è stata in qualche modo passata un po' anche ai ragazzi dal punto di vista emozionale. Il primo giorno c'era il presidente del CAI di Clusone, il signor Anza Claudio, poi il secondo giorno la signora Anna, responsabile di montagna terapia, infatti abbiamo parlato di questo, di montagna ragazzi, e la signora Franca, che è la presidentessa del CAI della Valle del Riso. Per concludere, il terzo giorno sempre del CAI, il segretario Beppe Fenili, che ci ha appunto accompagnato. Praticamente il primo giorno abbiamo visitato gli aspetti naturalistici della Vassanguigno, sappiate che ci sono delle cascate eccezionali e delle torbiere, che è una situazione un po' particolare dal punto di vista dell'ecosistema. Abbiamo fatto il passo Zulino e siamo arrivati al Roccolo Corte appunto di Gianni Facchini. Lì abbiamo fatto la lezione sull'architettura di montagna, siamo stati ospiti lì la sera, in un Roccolo incredibile, bellissimo, e il giorno dopo invece ci siamo spostati nella zona del rifugio Alpecorte, ci siamo appoggiati al rifugio Alpecorte, siamo saliti al branchino, lì abbiamo fatto una lezione con il veterinario dottor Inverte Giuseppe, che ci ha parlato di aspetti molto importanti dal punto di vista sanitario e anche naturalistico. In particolare mi viene da ricordare il discorso sugli animali selvatici, orsi, lupi, cose che ormai ci stanno toccando in maniera diretta. Poi il giorno dopo, l'ultimo giorno, siamo saliti al passo dei laghi gemelli e visto che i ragazzi camminavano di buona lena e senza problemi, la giornata era stupenda, abbiamo raggiunto la cima del Papa Giovanni II e siamo scesi dal passo della Marogella. Nel pomeriggio abbiamo incontrato per una lezione teorico-pratica i rappresentanti del soccorso alpino della stazione di Clusone che ci hanno mostrato come fare il primo soccorso e hanno fatto provare anche i ragazzi a trasportare un compagno in una barella, a fare delle operazioni anche di calata e di recupero della barella stessa. Tutto questo ci ha consentito di fare un'esperienza veramente molto intensa. Devo ringraziare anche i gestori del Rifugio Alpecorte che ci hanno accolto in maniera molto valida e ci hanno supportato in tutto quello che è stato l'aspetto logistico. Quindi voglio dire grazie a moltissime persone. Spero di non aver dimenticato nessuno perché veramente nel mio cuore ci sono comunque tutti e li terremo presenti. Naturalmente è stata anche l'occasione per scoprire il territorio dal punto di vista naturalistico con l'aiuto di chi lo vive veramente da vicino. Certamente. Il titolo del progetto era salvaguardia del territorio montano. Logicamente ci si riferiva in particolare al nostro territorio e per questo abbiamo fatto uno studio preliminare in classe con l'insegnante di scienze, Marinoni e Silvia. E poi ci siamo anche appoggiati all'esperienza di Pierino Bigoni dell'associazione Bresadola di Villa Donia che è una guida ambientale proprio dal Val Sanguigno. Questo è stato sicuramente importante. Tra l'altro abbiamo una collaborazione con questa persona da un po' di anni e sicuramente è stata una cosa importante e valida. Quali sono soprattutto gli obiettivi di questo progetto? Gli obiettivi sono a mio parere molteplici. E li abbiamo anche vissuti in modo concreto e in qualche modo toccati con mano. Io credo molto all'aspetto dell'esperienza emotiva. Nel senso che a questa età fare un'esperienza positiva in montagna quindi trovando anche la misura giusta dello sforzo che deve esserci ma non deve essere eccessivo il fatto di poter socializzare in gruppo, poter dormire insieme e gestire anche l'aspetto dell'organizzazione, del mangiare stesso crea un'esperienza che rimane comunque a fondo nella persona e poi magari torna in altri momenti della vita, magari anche più tardi, oltre all'adolescenza e uno ritorna perché c'è un ricordo positivo dell'esperienza e quindi cerca di trovare ancora queste emozioni. Poi io credo molto nel fatto delle emozioni quando sono di carattere naturale possono essere effettivamente molto profonde in un mondo nel quale questo aspetto del contatto con l'ambiente molte volte viene un po' meno. Questo quindi penso che sia molto importante. quindi dal punto di vista delle conoscenze la conoscenza del territorio, gli aspetti scientifici e via dicendo dal punto di vista invece emotivo, anche affettivo il fatto di vivere un'esperienza importante insieme con un po' di difficoltà che ti mettono un po' alla prova ma nel stesso tempo ti rassicurano e ti creano anche fiducia. Vogliamo sentire anche le voci dei ragazzi. Anna, cosa ci vuoi raccontare di questa esperienza? Ma credo che sia stata di sicuro un'esperienza molto interessante e bella e significativa e penso che il ricordo di questa appunto esperienza che abbiamo fatto tutti insieme rimarrà nel nostro cuore per sempre è come appunto un ricordo positivo in cui abbiamo passato momenti in compagnia ma anche dei momenti di istruzione come ha detto prima il professore anche ad esempio con i veterinari, i rappresentanti del soccorso alpino, del CAI che comunque hanno spiegato cose molto interessanti e poi non sono mancati appunto momenti di divertimento tra di noi. Una cosa che in particolare ti è piaciuta o che ti ha sorpreso? Ma trovo che sia stato molto bello fare una lettura sirale che è stata la proposta del professor Filisetti in cui ognuno di noi aveva scelto un brano da leggere e esporre agli altri per il suo significato è un'attività che abbiamo fatto durante la sera nel Rifugio Alpecorte e trovo sia stato molto bello condividere questi momenti di intimità. Proseguiamo con Samuele vorrei sentire anche le tue impressioni su questa tre giorni. Allora è sicuramente stata un'esperienza molto interessante e la consiglierei a chiunque non è convinto di provare questi ambienti montani visto che io prima di questa esperienza in montagna ho pregunto poco e a vedere questi panorami risulta molto coinvolgente e nulla è stata un'esperienza molto costruttiva. In modo particolare dei posti che hai visitato ce n'è uno che ti è rimasto nel cuore? Sì è stato molto bello il roccolo che abbiamo potuto visitare siamo stati ospitati e sentire un po' la storia o comunque la funzione del roccolo e vedere i panorami da un punto così alto è stato molto bello. Siamo adesso con Francesca che cosa vuoi raccontarci di questa esperienza? Allora devo ammettere che inizialmente avevo paura di non riuscire in quanto in montagna io non amo molto la montagna non sono una persona molto sportiva però in realtà grazie alla disponibilità all'aiuto e al supporto comunque dei professori dei miei compagni ma anche dei vari accompagnatori sono riuscita davvero a godermi questa esperienza anche perché i paesaggi erano davvero mozzafiato mi è piaciuto molto il fatto che l'ambiente fosse completamente incontaminato e quindi vedere queste vaste aree aperte è stato davvero mi ha aperto davvero la mente e poi penso che sia stata anche un'esperienza utile dal punto di vista formativo in quanto i vari accompagnatori poi i vari incontri che abbiamo fatto ci hanno arricchito comunque le nostre conoscenze della fauna e della flora che ci circonda ma anche quella del sanguigno e quindi ho davvero apprezzato questa esperienza mi è piaciuta davvero molto abbiamo condiviso tantissimi momenti belli con i nostri compagni con tutti quindi sono felice di aver deciso di partecipare Hai parlato appunto anche degli aspetti formativi di questa esperienza c'è qualcosa che hai imparato che come ho chiesto anche ad altri ti ha sorpreso che non ti aspettavi? in realtà una spiegazione che mi ha davvero colpito è stata quella durante il secondo giorno del servizio CAI che ha spiegato la diversa organizzazione dell'associazione e mi è piaciuta molto la loro proposta della montagna parliamo con Nicola che cosa ti ha lasciato dentro questa esperienza in montagna con i tuoi compagni con i tuoi insegnanti questa esperienza di tre giorni in montagna è stata fantastica sotto tantissimi punti di vista è stata formativa perché ci hanno anche orientativi soprattutto perché abbiamo incontrato molti specialisti che ci hanno spiegato i loro lavori quello che fanno e come arrivare a fare un percorso universitario per farli è stata un'esperienza bella anche come classe per creare nuovi rapporti o comunque scoprire nuovi posti che abbiamo qua intorno nella Bergamasca che sono dei posti penso a volte sottovalutati ma che offrono viste, panorami mozzafiato paragonabili a quelli di tutte le Alpi come Trentino o Alto Adige C'è stato qualche momento particolarmente difficile? Penso il momento più faticoso dal punto di vista fisico sia stata la salita ai laghi a passo gemelli dell'ultimo giorno perché c'era una stanchezza un po' accumulata i giorni prima e è stata abbastanza faticosa come salita però una volta arrivati in cima si è aperto un paesaggio fantastico con i due laghi che erano uniti e le montagne della Valtellina innevate sullo sfondo che erano uniti che erano uniti che erano uniti